Siamo andati fuori in un locale a cena, finito cena ci siamo trasferiti qua a casa mia, ci siamo messi sul divano a guardarci un film e all'incirca verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, lei ha iniziato a ricevere un po' di chiamati da parte del suo ex fidanzato Dimitriu, che il cane stava male, che voleva riportargli uno dietro. A un certo punto Iana mi ha chiesto di riaccompagnarla a casa perché non si sentiva tranquilla per il cane, noi saremo arrivati lì a Castelloni all'incirca verso l'una. E lei poi cosa ha fatto? Io subito mi sono fermato in macchina a aspettare che lei salisse e mi ha detto che aveva trovato la telecamera staccata, però subito non mi avevano dato peso perché era già successo nel passato che lui li salisse nascosti in casa, li staccasse la telecamera, che rovistassi tra le sue cose. Lei mi ha salutato e mi ha chiesto di andarmene a casa. Fino a che ora vi siete sentiti? All'incirca l'ultimo messaggio è stato verso le due e mezza dove appunto lei ha cercato di tranquillizzarmi, lui le aveva detto che 10 minuti arrivava col cane e non era arrivato, verso le due l'ho risentita se era arrivato col cane Dimitriu, lei mi aveva detto che l'aveva richiamato una seconda volta e lui le aveva detto che si stava vestendo, stava arrivando. Quando è arrivato lei mi ha scritto e mi ha detto che sono arrivati, che il cane in realtà stava bene, non stava male, era una scusa, era una scusa, una trappola. Per lei è stata una trappola mortale, mi ha cercato per tutta la casa perché pensava che io fossi lì nascosto. Quindi Dimitriu ha cercato se c'era qualcun altro in casa. Quando poi il giorno dopo le ha scoperto che Yana era scomparsa, cosa ha pensato lei, che era con lei quella sera? Perché è successo qualcosa di brutto. Lei mi aveva confessato che un po' di tempo fa, intanto che era insieme a lui, ci sono stati un paio di occasioni dove lui le ha dato qualche schiaffo. Tante volte capitava al bar e diceva stasera ho provato a buttare Yana dal balcone perché sono stufo, perché mi rompe le scatole. Lui le aveva detto che se l'avrebbe scoperto, che lui usciva con una persona che entrambi conoscevano, non l'avrebbe uccisa. Quindi l'ha minacciata di morte. L'ha minacciata di morte, esatto. Ha dei rimorsi? Sicuramente, la prima cosa è non averlo denunciato ancora quella sera lì, quando lui l'ha minacciata. Gli occhi di Yana, quello che hanno visto in quegli istanti, invece ci pensa questo? Sì, una bestia che le saltava ad osso.